amici mister gorna il signore degli orti siamo qua nell'orto al lato dell'ordo della prima della prima parte dell'orto zucca già pronta siamo al 16 agosto 2023 abbiamo una zucca già pronta quindi andate questa qua doveva essere una iron cap ma somiglia di più a una zucca violino i semi mi sono stati dati come agron cap invece è uscita fuori questa zucchettina qua qua è tutto secco parte da la che è la pianta quindi quando si raccoglie la zucca degli amici del canale che la maggior parte lo sapranno già però per chi non ha ancora o vuole iniziare come a fare l'orto quando si taglia la zucca si taglia quando è secca come in questo caso il picciolo è secco la tagliamo abbiamo una zucca sarà sui 3-4 chiletti piccolina però qualcosa ci facciamo dai poi la si taglia la si tiene si taglia quando è secco il picciolo la si tiene come diciamo possiamo anche tenerla a lunga conservazione in un luogo tipo cantina non umido e abbastanza buio ok lo possiamo tenere a buio io faccio io faccio così la conservo anche i due tre mesi però se vogliamo già a tagliarla io quando si taglia il picciolo si tiene magari un mesetto mesetto e mezzo poi la si può tagliare prima zucca prima zucca dell'anno poi abbiamo altre altre zucche vi faccio vedere dalla in fondo eccola e quella per la trombetta poi abbiamo altre trombette di là che sono anche queste qua pronte da tirare via e niente dai andiamo avanti con l'orto adesso ho fatto anche l'orto sto facendo anche l'orto a tunnale questa volta sono andati a comprarli che sono praticamente i cavoli cappuccio che ho sostituito la parte dove erano dove c'erano le zucchine ho messo il cavolo che ho messo sei cavoli cappuccio 123 e gli altri sono di guarda e stanno già crescendo alla grande lei non c'è qua non si si ferma mai se avete bisogno di qualsiasi informazione chiedete pure mister golden signori degli orti è tutto al prossimo video al prossimo raccolto